Ebbene sì, la ragazza vuole scopare con te, solo che non te ne accorgi. Cioè non vai a individuare quei segnali di interesse sessuale che sono segreti, che ti permettono di capire che la ragazza voglia che il tuo pene, ok, entri nella sua vagina. Scherzi a parte, adesso ti darò tre indicatori inequivocabili, segreti, che non conosce nessuno, le scambiano per altre cose, che ti fanno capire che la ragazza è pronta e tu puoi spingere sull'acceleratore, quindi ti consiglio di fare tensione sessuale, quando vedi questi indicatori, poi di invitarla fuori, non farlo al primo appuntamento, il primo appuntamento la baci, e al secondo, al terzo, ci fai sesso. Questo è il primo segnale segreto che non conosce nessuno, cioè accetta gli scenari da coppia. Cosa vuol dire? Molti di voi ci stanno seguendo adesso per la prima volta, quindi non lo sanno. Le persone in coaching invece lo sanno cosa sia e come si fa. Cioè creare uno scenario futuro con la ragazza significa in chat, o anche dal vivo però, specie in chat, proiettare uno scenario appunto in cui te e lei siete insieme e state facendo qualcosa, un'attività, siete fuori a cena. Questo ti permette di creare attrazione, di cementificare il rapporto e di capire anche da parte sua se c'è terreno fertile. In questo caso quando accetta gli scenari è interessata, ma talvolta quando accetta scenari da coppia, che adesso ti dirò, significa che è attratta sessualmente. Cioè che lei si sta vedendo, si immagina con te questo scenario e quindi anche nella realtà sarà predisposta a fare ad avere qualcosa con te. Esempio, state parlando di viaggi, cosa che ti consiglio se vuoi creare questo scenario. Dove è stata lei, dove sei stato te. Crea un punto di congiunzione, quindi un viaggio che magari lei vorrebbe fare e ti piacerebbe fare anche a te, a New York. Quindi vado a creare uno scenario in cui io e lei siamo a New York per una settimana. Potrei anche azzardare con una battuta a dire una roba tipo Dai, vorrà dire che al nostro secondo appuntamento facciamo una pazzia, prendiamo un aereo e andiamo a New York un weekend. Oppure mi spingo ancora di più in là. Dai, allora vorrà dire che quando ci fidanzieremo, per il nostro primo anno andiamo a farci un viaggio a New York. So che a te sembra di correre troppo, ma creando lo scenario, dato che è immaginario, la pressione è scema. In questo caso puoi capire se la ragazza è colpita, se accetta questa cosa, il fatto che voi siete fidanzati, il fatto di aver menzionato appuntamento, la parola appuntamento non è un qualcosa tra amici, è un appuntamento da due persone che si piacciono. Se la ragazza ti risponde con, va bene, accetto, ah, dai, va bene, ci sto, significa che attratta sessualmente da te. O potrebbe esserlo molto presto. Secondo, secondo indicatore segreto, lanciata intraprendente in chat. Quando una ragazza è lanciata in chat, cioè che fa domande, un vulcano in piena, non si preoccupa più di creare delle strategie, perché tutte le ragazze hanno strategie, tutte, anche quelle che ti dicono che non hanno strategie. Quando è lanciata e se ne sbatte delle strategie, la ragazza è sessualmente interessata a te, perché getta al vento, appunto, ipotetiche, tecniche, in favore di farti capire qualcosa. Quindi non è solo un è interessata, è interessata sessualmente. Scopre le sue carte perché non vuole perderti, perché sei importante. E questo può avvenire nelle prime 24 ore se hai un metodo, se sei con noi in coaching, o nelle successive ore. Puoi portare la ragazza, con tecniche giuste, a scopersi per prima. Ma se è lanciata, è intraprendente in chat, quindi non solo ti fa domande, ma la senti proprio partecipe nelle cose, nelle conversazioni, nelle punzecchiature che le fai. Prova ogni tanto a rispondere solo con un pollice in su o un muscolo. Vedi cosa fa. Progredisce e continua, ti fa un'altra domanda, vuole fare sesso con te. Questo non te lo aspettavi. Domande sul passato, non te lo aspettavi, vero? Quando una ragazza ti fa domande sul tuo passato, su come sei in coppia, su com'eri, su come andava, su quali erano i problemi, su cosa non ti piaceva. Vuole fare sesso con te, ma non solo. Vuole capire se tu potenzialmente potresti fare il caso suo per un ipotetico fidanzamento. Vuole capire di più perché è molto, molto interessata. Se la ragazza ti fa domande, specie all'inizio, della conoscenza così precise sul tuo passato, acutizza la mente, rispondile, mantenendo sempre quel vero dimistero. Spesso e volentieri io ti faccio rispondere, se sei in coaching con me, alle sue domande della serie, ma com'eri, come sei, com'è fatto, cosa è successo? E tu gli dici, ah, perché? Rispondi solo così all'inizio. Perché? E lei gli risponderà, ah, così. E tu, hmm. Premiala e gli dici, mi piace questa curiosità, premiala. E le rispondi. Ricordati di risponderle un qualcosa che vuoi vedere in lei. Mi spiego. Se tu prendi questa domanda come una domanda a caso, le dici, ma sì, litigavamo, poi però io a volte facevo x, y, z, non serve a niente. La risposta che le dai serve a farle fare, avere dei comportamenti giusti nei tuoi confronti. Quindi se tu le dici, sai, è finita perché io apprezzo una ragazza che mi riempie di attenzioni, bam, le stai dicendo alla ragazza in quel momento, riempimi di attenzioni. Se tu mi riempi di attenzioni, mi piace questa cosa. E puoi andare avanti con me. Lei ti riempie di attenzioni. Mi piace che sia sexy e sappia entregarmi, non solo al primo, al secondo, al terzo appuntamento, ma durante tutta la conoscenza. Bam, le stai dicendo? E lei arriva, ok, io devo essere sexy con lui. Sono tutte cose che non ti dice nessuno, ma che fanno tutta la differenza del mondo. Quindi se ti fa le domande sul tuo passato, se ti fa domande in generale, ma soprattutto sul tuo passato, è perché vuole capire tu come sei e come sarai con lei. Vuole fare sesso con te. Se stai a un secondo lato, ti spiego come possiamo trasformarti e aiutarti a cambiare i tuoi risultati con le ragazze. Se ci segui da un po', sai che la transizione è naturale per chi ha voglia di risultati. Video gratuiti e poi percorso con noi. Che cosa possiamo offrirti? Coaching a distanza. Famosi coaching a distanza, ne attiviamo ormai centinaia all'anno, in cui a distanza su WhatsApp senti un trainer, senti uno Steve, con cui confrontarti ogni singolo giorno per un mese e con cui puoi lavorare su tutto quello che ti pare. Sui tuoi errori con altre ragazze, su riaprire ragazze o vecchie fiamme, sul tuo Tinder con biografia nuova, fotografia nuova, esempi di chat con screen recording, tecniche di seduzione avanzate e base, partendo dalla bronzo fino ad arrivare alla oro. Due videocorsi didattici a distanza. Siamo gli unici in Italia ad avere un vero e proprio store, www.playloveracademy.store che ti permette di studiare i nostri videocorsi. Lo prendi tra qualche ora e inizi a studiare. Sulla chat, sulla parte di mentalità, su conoscere ragazze dal vivo. Si parte da mini videocorsi a 97 euro che non ti cambiano la vita, lo dico per correttezza, ma che ti introducono a quel tipo di argomento specifico. Fino a videocorsi professionali, completi, lunghi, 10, 15, 20 ore. Corsi live, vuoi toglierti la ruggine, vuoi imparare a conoscere ragazze dal vivo? Sei bloccato? Vuoi avere qualcuno a fianco che ti protegga, che ti aiuta? Vuoi entrare in contatto con altre persone che diventano tuoi amici? Veri amici. Ci sono i corsi weekend a partire dal 999 fino ad arrivare ai corsi master di una settimana in cui ti riprendi tutto con gli interessi. Vai su www.preloveracademy.it o ci iscrivi su Instagram o alla nostra mail info-preloveracademy.it